buongiorno a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv siamo di nuovo qui oggi con un gradito ospite michele putrino autore ed esperto di stoicismo buongiorno michele buongiorno a te jeff buongiorno a tutti dunque michele ci sono stati in queste ultime settimane attentati terroristici paragonabili all 11 settembre direi contro il ponte di crimea contro i gasdotti e prima ancora contro la figlia del filosofo dugin secondo te qual è il quadro reale della situazione come le dobbiamo leggere queste queste vicende terroristiche dal mio punto di vista è abbastanza chiaro che c'è un tentativo da parte del dell'ucraina del governo ucraino di continuare ad alimentare il fuoco mi sembra abbastanza palese perché sappiamo che ci che russi americani stanno parlando tra di loro in questi giorni anche in queste ore anche se le trattative non sono ufficiali ma sono segrete ma questa queste trattative sono presenti si sa e quindi è anche evidente che come sappiamo anche su questo russi americani si conoscono molto bene da molto tempo e quindi molto probabilmente sono vicini ad ad un accordo a un qualche tipo di accordo questo agli ucraini non sta bene molto probabilmente non sta bene nemmeno a qualche altra potenza sia occidentale sia orientale se voi possiamo poi provare a fare qualche ipotesi e di conseguenza cercano di come dicevo prima dire accendere il fuoco di alimentare il fuoco di propria iniziativa attraverso questi attentati perché dico questo con una certa sicurezza perché la cia i servizi segreti americani il pentagono lasciano delle dichiarazioni ai giornali di solito si sa anche questo utilizzano soprattutto il new york times o il washington post per far passare delle dichiarazioni sotto banco e lì il fatto che loro hanno subito dichiarato che sia per l'attentato di della figlia di dughin che per il ponte e in crimea non sono stati loro ma addirittura sono stati gli ucraini è chiaro che il messaggio è guardate per noi le trattative vanno avanti questi sono loro azioni di loro propria iniziativa non a casa abbiamo visto anche in questi giorni è un tentativo di ridimensionare da parte degli americani la posizione di zelensky e del e del suo governo cosa che a mio parere sarà molto difficile da mettere in atto per tutta una serie di motivi il primo è che ormai il governo ucraino ha un esercito potente molto potente molto incazzato molto fomentato e quindi come dire una volta che carichi a pallettoni un popolo o meglio più che un popolo diciamo l'esercito di un popolo lì poi diventa difficile tornare indietro e sì perché bene o male anche lì è stata armata una parte del popolo ucraino probabilmente anche una piccola parte del popolo ucraino non credo che siano tutti obnubilati talmente ricercito da appendere dalle labbra di zierensky come pronunciano in russia e tu parlavi di qualche altro soggetto coinvolto sia occidentale che asiatico a cosa ti riferivi beh a me sembra palese che per quanto riguarda l'occidente partiamo dall'occidente beh c'è quest'altro soggetto che è molto presente e che sta attizzando parte parecchio il fuoco che è la gran bretagna o meglio ancora più in maniera più precisa gli inglesi mi sembra abbastanza ovvio questa anche contro la volontà americana ed è anche a una logica cinica tutto questo non è soltanto ovviamente un discorso di odio secolare tra russi e inglesi che che si sa è presente da da sempre ma c'è proprio anche un fattore pratico e anche se in media mainstream non ne parlano quasi per niente io ogni volta rimango stupito di questo è veramente una cosa strana che andrebbe indagata con attenzione l'inghilterra la gente appunto di questo non è a conoscenza l'inghilterra in questo paese in questo momento in questo periodo storico si sta trovando in un periodo critico in maniera estremo cioè l'economia inglese è a pezzi anche le finanze inglese sono a pezzi si trovano veramente sull'orlo del disastro e ripeto stranissimo che i media mainstream stranissimo tra virgolette perché il motivo c'è non ne parlino e e quindi di conseguenze anche naturale sempre tra virgolette che l'inghilterra con la sua classica natura da risolvere che risolve i problemi andando praticamente a razziare gli altri popoli e lo sappiamo è storica nella loro caratteristica beh puntano ovviamente a risolvere le loro questioni economiche interne di collasso a distruggere la russia e quindi a ottenere poi i beni materiali russi è abbastanza evidente abbastanza palese anche perché a washington non sono pazzi non sono ovviamente fuori di testa sanno benissimo che questo con la russia non si può fare perché ripetiamo di nuovo conoscono bene i russi da una vita anche se sempre bisogna sottolineare che sempre a washington esistono i falchi esistono quelli che hanno queste idee stile inglese è normale biden è uno di questi ne esiste un piano da sempre certo la russia certo però non dobbiamo stare attenti a non confondere chi ha questi piani con l'intero establishment in americano perché sono due cose diverse ricordiamo sempre che dentro a uova che a washington esistono diverse diverse idee diverse visioni diversi pensieri delle volte prevale l'una altre volte prevale l'altra mentre in inghilterra è abbastanza chiaro invece l'obiettivo e ovviamente gli inglesi spingono no cercano di alimentare i falchi americani per distruggere questo per e di per distruggere insomma per spezzettare la russia diciamo così però è evidente che invece in queste ultime settimane ha preso piede la cosiddetta teoria alla visione di kissinger no che portava anche avanti trump in realtà quindi è la visione un po dei repubblicani di non utilizzare diceva kissinger l'ucraina come una fortezza ma come ponte cioè bisognava riportare la russia in grembo europeo quindi occidentale e usarla volendo quindi dal loro punto di vista naturalmente cinico in funzione anti cinese che in realtà è la la mossa più intelligente e che vorrebbe anche in realtà putin cioè allearsi con mantenendo ovviamente la propria autonomia perché sappiamo che i russi sono molto orgogliosi e vogliono anche giustamente la propria autonomia però di certo non vogliono stare con i cinesi altra cosa che in più non sanno russi e cinesi si odiano da sempre anzi i cinesi ancora di più perché c'è sempre un discorso razziale perché piacciono funziona anche questo e il i cinesi vedono i russi come occupanti perché per loro la siberia tutta la parte della siberia la parte dagli urali in poi non è stata occupata dagli europei per loro i russi sono europei e basta cioè non è che fanno distinzione quindi dobbiamo capire tutti questi giochi e infatti ricco voglio ricordare sempre che a febbraio quando putin putin per dire per semplificare realtà sappiamo è l'apparato russo l'apparato di mosca avevano messo in sostanza l'esercito sul confine e beh tutti gli esperti dicevano attenzione questo è un messaggio che che l'apparato gli apparati russi stanno mandando agli americani degli occidentali in generale per dire attenzione non spingeteci no verso un'alleanza con la cina cerchiamo di trovare un accordo cerchiamo di trovare una soluzione e invece ha preso il sopravvento come dicevamo tutta la parte dei falchi inglesi da da una parte è di quella parte americana che appoggia questo pensiero ed è andato come è andata adesso stanno cercando gli americani di rientrare in questa situazione però è evidente che gli inglesi stanno spingendo appoggiati da quella parte sempre di falchi di washington per continuare ad alimentare la guerra per attenzione non è solo il problema ad occidente perché questo è a mio parere un altro grave errore che continua ad essere fatto dal dagli analisti sia mainstream che della cosiddetta contro informazione perché non si guarda d'oriente dall'altra parte abbiamo una gigantesca potenza che con che dichiara in maniera esplicita proprio all'interno di voler essere la nuova potenza dominante nel mondo di voler essere si percepiscono come coloro che devono rieducare il mondo e stiamo parlando dei cinesi e attenzione perché una potenza che pensa così che si vede come impero si percepisce come impero che ha tutta questa forte funzione e di giochi di potere all'interno non rimane solo a guardare è evidente che nell'interesse anche della cina continuare ad alimentare questa guerra e palese si vede per me da tanti indizi che ho descritto anche altre volte anche qui da voi su sulla casa del sole e che tanti indizi però ad un certo punto creano una prova quindi a me sembra abbastanza evidente la mano cinese nel continuare ad alimentare questa guerra quindi da una parte abbiamo i falchi i cosiddetti falchi americani che per fortuna iniziano a essere messi un po da parte però dall'altra parte ancora ci sono sempre gli inglesi e sul versante invece orientale abbiamo i cinesi che spingono su questa pressione quindi attenzione a guardare le cose solo sul dualismo no sul gioco americani russi la cosa è molto più complessa e complicata anche perché aggiungerei michele due particolari due dettagli uno non molto importante però significativo persino obama è di nuovo intervenuto in questi giorni dicendo che bisogna trattare con la russia assolutamente infatti vorrei ricordare ovviamente parliamo di cose di un po di anni fa quindi non tutti ricordano questo ma quando biden era vice presidente di obama è stato obama a fermare accalmare più volte biden alcune dichiarazioni di biden alcune visioni di biden biden contro la russia quindi questa propria dimostrazione che è washington non c'è un unico pensiero ma ci grazie a dio ci sono poi c'è pure gente di buon senso lui diceva che non era negli interessi degli stati uniti esatto poi nello stesso tempo bisogna aggiungere anche che all'interno della cina esattamente come all'interno delle altre potenze e superpotenze c'è un apparato un deep state forse anche più di uno anche lì è anche molto potente certo e anche credo anzi direi con certezza legato al regno unito cioè a alla dinastia Rothschild eccetera eccetera quindi hai ragione nel dire che la cosa è molto più complessa che 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 un confronto duale e infatti un altro problema michele è che siamo spinti a una guerra nucleare sulla base di una narrativa che è completamente falsa e fa acqua da tutte le parti come faceva acqua la narrativa che abbiamo ascoltato durante la pandemia però va avanti adesso si parla già di comprare generatori elettrici perché ci saranno restrizioni sia del gas che a livello energetico più generale in italia qui abbiamo il problema che la contro informazione non soltanto il mainstream è ormai stata un po inquinata da un modello che è quello della propaganda che è quello poi di una visione appunto sempre duale delle cose che non è così semplice invece io ho paura che quando il popolo italiano si sveglierà sarà troppo tardi tu pensi che c'è speranza per una rinascita in questo paese teoricamente sì sì anzi io sono convinto che l'italia in questo momento si trova di fronte ad un'enorme opportunità paradossalmente no perché ma se ci pensiamo è anche normale nei momenti di estrema difficoltà che le situazioni o no nascono in realtà le opportunità è storicamente sempre così poi bisogna bisogna vedere se uno sa accogliere questa opportunità oppure no è lì è ovviamente è il gioco perché perché noi noi italiani tendiamo a svalutarci parecchio a non guardare nemmeno la posizione geopolitica geostrategica in cui noi ci troviamo noi guardiamo sempre al nord europa è una fissazione stranissima non si capisce bene nemmeno il perché quando invece in realtà nel nord europa non sono queste questa questo mondo così di liaco come pensiamo sono parecchio sottomessi al sistema statale dato un'occhiata in germania ma non parliamo i paesi scandinavi cioè la visione dell'essere umano è molto molto ridotta semplicemente funzionale agli apparati statali mentre mentre nel sud europa c'è più rispetto quantomeno tra il popolo tra le gli esseri tra l'individuo tra la libertà dell'individuo e questo guardate è una cosa molto importante non è una cosa da sottovalutare e sintomi in realtà di evoluzione non di essere arretrati il problema qual è è che nessuno poi prende in mano questa situazione dall'alto e arriva a valorizzare tutto questo e a strutturare questa è la differenza in più c'è un discorso anche economico se vogliamo l'italia si trova proprio nel centro del mediterraneo il mediterraneo sta tornando di nuovo ad essere il centro anche commerciale di una parte importantissima del mondo c'è tutto il nord africa che si sta sviluppando guardate che soprattutto marocco e algeria di cui non si parla mai si stanno sviluppando tantissimo ma lo stesso anche in parte l'egitto non parliamo della turchia tutta la parte poi del medio oriente e così via c'è tutto il discorso del gas del petrolio gira tutto sta girando ultimamente tutto intorno al mediterraneo anche commercio attenzione anche il commercio che arriva dall'oriente verso l'europa passa dal mediterraneo mediterraneo siamo noi dei fessi che praticamente lasciamo passare tutte le merci arrivano ad amsterdam nord europa in generale per poi tornare da noi pensate la follia del discorso tutto tutto questo per dire se gli italiani in questo momento così critico riescono a svegliarsi il governo a riprendere il controllo diciamo così tra virgolette del mediterraneo dei vari flussi beh per l'italia potrebbe essere un nuovo risorgimento da vari punti di vista da qui però bisogna questa è diciamo la parte teorica poi bisognerà vedere la parte pratica sì sì esatto esatto e sempre su questa linea michele sulla base dell'esperienza pandemica che abbiamo avuto e quindi dell'uso dello stato di emergenza come come modello per governare un paese secondo te siccome è molto probabile che arriveranno dei tempi piuttosto difficili da ora in poi riusciremo a difenderci in modo organizzato oppure sarà di nuovo un'altra guerra fra poveri come è stata un po durante come durante la pandemia con con chi faceva la spia al vicino di casa eccetera eccetera sì sarà una guerra tra poveri e ma è qualcosa di abbastanza palese sia tra stati tra i vari stati europei e sia pure proprio tra individui purtroppo abbiamo perso qualsiasi valore etico di visione del mondo di questo ne abbiamo parlato tante volte con te perché per avere una visione alta della vita bisogna avere una visione di posizione nel nel mondo no bisogna saper rispondere perché esisto ecco lo so che può sembrare una domanda filosofica astratta invece no ha una funzione proprio sociale importante perché se io mi convinco di essere uno qui soltanto che deve mangiare bere sopravvivere applico la famosa volontà di potenza di di nicciana memoria e finisce lì quindi mort tua vita mea e finisce lì la storia ed è questa la situazione attuale se io invece riesco a vedere una visione diversa ed è già sufficiente capire che io sono qui soltanto di passaggio e nei fatti è così beh a lì la situazione cambia perché cerco di trovare una visione uno scopo un ruolo più alto per me e nel momento in cui inizia a percepirmi come il cosiddetto essere sociale non come o come diceva pure aristotele l'animale sociale ebbene in quel momento io capisco che fa parte della mia natura l'essere di aiuto ai miei vicini alla persona che mi sono accanto e lì la situazione si ribalta il problema è che questa visione no oggi non esiste ergo ne consegue che il primo anno al primo momento di difficoltà si applica solo il discorso del brutto non dei bruti della pura volontà di potenza quindi mi aspetto un gran casino salvo salvo miracoli però sappiamo che è meglio non sperare mai nei no no è meglio basarsi sulla realtà e la realtà purtroppo è questa ma credo che non sia soltanto colpa della mancanza di consapevolezza ma credo che sia stata creata col tempo una società una scuola che non insegnasse più ha il senso di comunità il centro di solidarietà e di e anche di amor nazionale cioè perché uno parlare di patria debba essere una cosa negativa è una cosa invece molto bella sulla quale si basa anche la costituzione quindi ma guarda io penso sia e ne sono convinto l'ho scritto nei miei libri ne parlo sempre è una cosa un po difficile da riuscire a far capire un po anche la persona comune perché è una visione anche in questo caso un po diverso dal solito io sono convinto che il problema di tutto sia proprio il quello che negli anni pure negli anni 70 anche gli esperti chiamavano il sistema cioè la nostra società ormai agisce in maniera automata ormai io sono convinto che anche chi è ai vertici del potere i famosi banchieri e così via a loro volta fanno quello che fanno perché il sistema li obbliga ad agire in quel modo perché se non agisce se il banchiere x per quanto grosso possa essere non agisce secondo certe regole se secondo certi principi semplicemente perde il proprio interesse la propria riuscita uno potrebbe dire ok meglio perdere perché non perde il proprio tutto quello che ha per l'etica ma qui sappiamo che poi qui veramente andiamo sull'astratto no mentre sappiamo che per natura l'uomo quello che ha vuole mantenerla anzi vuole espanderlo di conseguenza se tu sei un banchiere devi sottostare a certe regole queste regole sono gestite dettate dal sistema da quella cosa che noi oggi chiamiamo civiltà nel senso di cives cioè nel senso di struttura adibita alle grandi città di conseguenza più diventa grande questo sistema che il sistema in cui tutti noi viviamo e infatti a me piace pure definirla utilizzando il termine eh di mega macchina no utilizzata anche da molti studiosi cioè una macchina sociale che se non ricordo mai lo utilizzava più o meno un termine del genere anche giulietto chiesa no dove agisce in automatico tutto questo dove noi siamo costretti a vivere in un determinato modo è una macchina no è un po tipo matrix nel film e fateci caso noi facciamo tutto così noi anche singoli singoli individui siamo obbligati ad agire in un determinato modo altrimenti sei fuori dal sistema e questa cosa ti porta sempre di più ad agire con forza in avanti e quindi siamo tutti vittime di questa di questo meccanismo ecco se noi riusciamo anche a capire questo maiari poi riusciamo anche a trovare qualche possibilità di via di uscita almeno nel limite del possibile ovviamente e ci torniamo sopra a questa cosa ma sono curioso di sapere cosa pensi delle decine di comunità che stanno nascendo e sono nate già in questi mesi in questi due anni con annesse scuole parentali e qualcuna anche con una propria moneta locale magari che si limita a a tre quattro cinque mila persone però già esistente ecco queste esperienze secondo te sono serviranno sono importanti per una anche per una rinascita o no ci aiuteranno ad affrontare momenti difficili allora guarda dal punto di vista simbolico sì perché un bel gesto non cercare di ricostruire le società eh senza il potere che gestisce tutto dall'alto no ed è quella che poi eh io sono convinte la natura vera umana cioè la vera natura umana è quella che vive in gruppi sociali abbastanza limitati no i famosi branchi umani e che si aiutano a vicenda hanno una certa civiltà una certa visione del mondo non è che sono eh con la clava ecco vediamola così ma hanno una eh si aiutano a vicenda sono in perfetta armonia con la natura però restando in gruppi sociali giusto per far capire a chi ci ascolta è un po la visione che è del dei cosiddetti indiani d'america no come vivevano un po il mondo degli indiani d'america che era il modo di vivere dell'essere umano fino ad appena circa dieci quindici mila anni fa quindi stiamo parlando praticamente dell'altro ieri e poi che è entrato questo meccanismo del sistema no di cui abbiamo parlato quindi da un punto di vista simbolico e bello perché è un richiamare no il ritorno a la vera natura umana perfetto il problema è che a livello pratico queste piccole società eh difficilmente potranno resistere perché fanno parte del sono integrazione all'interno del sistema e il sistema come dicevo questa mega macchina ingloba tutto non può lasciare qualcosa fuori dal dal suo ordine perché il sistema percepisce queste cose come dei tumori per lui per quindi per il sistema stesso quindi prima o poi trova il modo per farle per fare a pezzi queste queste piccole comunità come sai era un tentativo che era stato fatto pure negli anni settanta infatti poi è stato smantellato di solito succede che fino a quando sei piccolo quindi non sei visibile al sistema viene lasciato in pace più invece poi quella determinata cosa prende piede più il sistema poi ti schiaccia un meccanismo purtroppo automatico però da un punto di vista simbolico certo di fatti chi sta portando avanti queste esperienze in modo etico e sincero cerca di stare nell'ombra non si promuove attraverso televisioni eccetera perché sennò diventa la fine insomma si mette nel mirino il filosofo francese la mia pronuncia del francese non è buona ma credo si dica paul virillo ha coniato un termine che è quello della dromocrazia dal greco dromos che vuol dire velocità e kratos che potenza ora il mondo di oggi è una lotta in effetti per essere più rapidi e più veloci di tutti sia sul piano economico culturale politico militare su tutti i livelli la velocità sembra quella che conta più di tutto non è che tutto questo correre in questo modo come del resto ci sta facendo fare la tecnologia che incrementa molto la questione ci sta distaccando dalla nostra coscienza e quindi anche dalla realtà perché se non abbiamo coscienza non riusciamo più nemmeno a riconoscere dove siamo come ci difendiamo michele da questo assolutamente sì guarda ne sono talmente convinto che come accennavo pure prima soprattutto nel mio libro manuale di resistenza al potere di qualche anno fa proprio puntavo cercavo di far capire proprio questo c'è nel senso che attenzione questo sistema che no che sta raggiungendo l'apice con la tecnologia alla fine cosa fa ci stacca come hai detto tu dalla natura noi dovremmo vivere in equilibrio con la natura dovremmo seguire le quattro stagioni il giorno la notte mangiare con un certo equilibrio anche gira con forza è la famosa vita da cosiddetta anche da cacciatori raccoglitori no quell'aspetto lì perché perché fa parte della nostra natura infatti quando cosa succede succede che quando noi viviamo no seguiamo le quattro stagioni stiamo in contatto con la natura parlo proprio persone singole no ad un certo punto guarda caso ci sentiamo bene come mai perché perché è quella la vera nostra e la nostra natura altrimenti siamo come una un albero sradicato no tolto dal suo terreno lo vediamo anche per esempio quando viaggiamo questa esigenza del viaggiare da dove nasce nasce dal fatto che noi esseri umani proprio come facevamo l'esempio prima degli indiani america siamo nati per spostarci da una parte all'altra fa il normale un po come i branchi degli animali e così via non c'è niente di strano ora voi immaginate di ritrovarvi in una situazione completamente opposta in un posto in cui dovete restare sempre fermi sempre più fermi sempre più chiusi dentro un posto sempre più di fronte ad una scatola in una scatola in un posto che a sua volta è una scatola ovviamente sto parlando del mondo in cui viviamo noi oggi le grandi città non hanno più nulla a che fare con la natura sono proprio un mondo completamente staccato dalla natura e all'interno di queste città ormai viviamo dentro scatole penso un po se tu prendi la vita di una persona comune no normalmente cosa fa si alza la mattina in una scatola nella sua casa si alza pensi per entrare in un'altra scatola che la macchina esce va al supermercato che un'altra va in ufficio ad esempio che un'altra scatola esce dall'ufficio e va rientra di nuovo nella scatola macchina per andare di nuovo magari nella scatola supermercato per poi magari uscire da lì e quelli più intraprendenti più vivi entrano di nuovo in un'altra scatola che è la palestra per poi uscire da quella scatola ed entrare di nuovo nella scatola casa la gente non ci pensa ma questa è la vita dell'uomo moderno ci rendiamo conto che quanto di più alienante assurde folle proporzionate se teniamo ovviamente in considerazione la vera natura dell'uomo che dovrebbe essere quella di stare per i campi per stare alla reperta sempre in società sempre con una certa visione alte spirituale dell'esistenza ok perché c'è ovviamente una certa differenza rispetto all'animale come nel senso tradizionale come lo conosciamo ma come se tu prendi ogni animale diverso poi dall'altro questo è assolutamente normale la nostra caratteristica è quella di essere razionali di essere contemplativi questo è ovvio di essere molto sociali di avere gruppi però di restare continuamente in contatto la natura e non è nemmeno un caso che più la civiltà evolve no questo mondo in cui noi viviamo evolve e più nascono i problemi il malessere la sofferenza interiore le depressioni e anche malattie fisiche no le malattie addirittura no che nascono proprio dettate dallo stress o per altri vari motivi perché perché siamo totalmente fuori equilibrio quindi si è esattamente come hai detto tu prima viviamo sempre più distaccate la tecnologia non fa che peggiorare ogni secondo tutto questo essere bisogna essere totalmente contro la tecnologia ovviamente no per un motivo molto semplice perché l'essere umano non è come una tigre come un leone che ha gli strumenti permettetemi questo gioco di però gli strumenti tecnologici per sopravvivere già integrati nel corpo zanne artigli e così via forza fisica noi siamo privi di questo in più siamo pure esseri abbastanza addomesticati per natura quindi abbiamo bisogno per forza di cose per sopravvivere di alcuni supporti tecnologici però da qui è certo però da qui a poi diventare vittima dei supporti tecnologici a non riuscire a farne più a meno e beh lì si stravolge completamente la situazione ed è invece quello in cui ci troviamo noi oggi addirittura c'è noi ne abbiamo parlato pure di te tante volte il famoso progressismo che cosa fa continua invece ad esaltare questa visione del mondo folle la esalta la esalta così tanto che si vantano di essere progressisti di progredire con tutta questa tecnica queste tecnologie questa alienazione e tutto questo è onestamente pura follia infatti ci stiamo totalmente autodistruggendo eh sì sì direi che direi che anzi potremmo potremmo riprendere l'argomento la prossima volta partendo da ciò che stanno facendo con le scuole con metaverso e tutto ciò che viene impiegato di tecnologia nelle scuole invece di usare i libri poi c'è questa magnifica volontà di andare a scuola con un tablet invece che con uno zaino pieno di libri invece leggere sulla carta direi che sarebbe una cosa che ci aiuterebbe a tutti sai vorrei solo aggiungere una piccola cosa guardate che tutto questo è collegato con la geopolitica perché questa mega macchina questo sistema si sta evolvendo questa globalizzazione che noi vediamo non è un caso fa tutto parte di questo sistema che si evolve e non è un caso che l'attenzione adesso si sta spostando il centro il nucleo di questo mondo di questo universo di questa globalizzazione sulla cina che rappresenta se ci fate caso il prossimo passo evolutivo di questa mega macchina il ridurre gli esseri umani a puro insomma in un formicaio gigantesco cosa che già sta avvenendo in cina quindi se ci fate caso è tutto collegato è questa mega macchina che si espande adesso no la cina rappresenta proprio questa nuova evoluzione della mega macchina ecco perché dobbiamo stare molto molto attenti alla connessione tra gli eventi geopolitici e la vita sociale che noi viviamo è quello che sta avvenendo tutto questo sistema perché delle volte magari qualcuno può chiedere no ho fatto questa giunta solo per questo motivo già perché qualche volta qualcuno può chiederò che cosa c'entra tutto questo con la geopolitica no è esattamente un tutt'uno e bisogna stare molto molto attenti all'insieme grazie michele ci vediamo la prossima volta sicuramente grazie per le tue risposte do appuntamento a tutti quanti per il nostro telegiornale che esce intorno alle otto tutti i giorni dal lunedì al venerdì e grazie per averci seguito grazie a presto grazie a tutti